musica voi vi chiederete perchè sarò uno a Fior Pescopoli perchè ho catturato un mashup come il nostro sesto pokemon e ho fatto lo alleno e gli do il condividesp e poi ho pensato cavolo non ce l'ho il condividesp allora mi sono ricordato che era qua dopo aver preso Geridos rosso cavolicchi borsa allora super repellente basta andare qua e parlare con mister pokemon e in cambio della squama rossa ci darà il condividesp si perfetto che noi daremo subito al nostro mashup ok ci si ritrova dove si era ok vi avevo lasciato qua e continuiamo con il prossimo allenatore ok ok zubat al 22 buono ok si coraggio dovrebbe avere un zubat un golbat e un altro pokemon che non mi ricordo fatti un golbat perfetto il mashup sale al 14 e un grima ecco buoni grima e il mashup sale al 15 perfetto già salito di due livelli mettiamo il prossimo che avrà un polygon scusate un po' la lentezza del gioco però sto convertendo gli altri video in mp4 e quindi fa più lento del solito perfetto e anche polygon è fuori gioco e abbiamo tutto questo scienziato pazzo ok saliamo le scale e battiamo questa persona che sembrerebbe il direttore e invece rieccovi a voi il fantastico signor maxus vale quello che si deve tanto attraversi 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 ok cavolo ah lui aveva tutti mi sembra tutti coughing e due wheezing possibile e noi abbiamo lakadam con cui si coraggio si si ammazza e mashup sale al 16 ecco ho fatto un wheezing non mi ricordo se c'è uno o due di wheezing mi ricordo se però che c'è tutti coughing ok mashup sale al 17 che mi ricordo che mi faceva sempre autodistruzione e mi ammazzava sempre tutti i pokemon cioè non mi batteva però mi ammazzava molto almeno che mi ammazzava con autodistruzione di cacca ok impara calmamente si 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 eh pensavo di togliere il mira col vista però cavolo l'ho ripresa non lo so no dai calmamente non gliela insegno è un buon attacco ve lo consiglio comunque perchè mira col vista fa ehm tipo fa sicchi gli attacchi di psico abbiano efficacia contro il buio e mashup sale al 18 altro coughing al 30 quando siamo per il psico e raggio non ci si sbaglia è l'ultimo coughing infatti era solo wheezing ma cambiamo ma cambiamo è più psico ma gioco psico taglio eccoci accidenta a me è quando cambio e mashup sale al 19 impara movimento sismico e l'istoglie full misguardo perfetto perfetto e ci dice che è in chiusone cosa nel magazzino e dovremmo andare nei sotterranei dove abbiamo preso la tutta del team rocket per andare nel magazzino dove lì ci sarà una bellissima sorpresa oltre al team rocket oltre al team rocket oltre al team rocket lo scocones ci sarà anche qualcun altro chi lascio a voi scoprirlo penso che questa parte durerà un po' un gocciolino un po' di più tipo 14 minuti perché si va troppo lenti e mi scoccia e mi scoccia non fa una parte di dove non si fa niente d'altronde perché sono già 6 minuti e non si è fatto nulla ok si esce di qui ora andiamo qua e qui chi si incontra non è lei che rompe con gli ombri una kimono girls per il team rocket in nero vestiti vanno e vengono tutte agguerriti oh cavolo basta non ci voglio parlare in rima proprio perché mi sento fatica oh come ho detto arrivederci brava levati da parliamo con la porta aspetta un secondo eh riaccomi riaccomi allora andiamo dentro scendiamo le scale e appena si va un po' avanti chi si incontra vuole il rivale che ci vuole sfidare eh per non rimanere nell'ombra di lens che però ci rimane comunque mi dispiace per te che manda un galbat e lo vado alla casa e noi li facciamo oh cavolo è vero vabbè si coraggio che ce ne sono rimasti 10 ciao galbat haunter perfetto noi si lascia la kazam si coraggio perfetto e mashup sarà al 20 sneezle ah voglio vedere se funziona la situazione di miracle con vista guardiamo eh lo so ci potrebbe uccidere infatti ci ha quasi ucciso però voglio vedere se vaffancuspio voglio vedere se funziona comunque allora snizel buio allora lui no ghiaccio anche vero diplosion la prima nota di pilovigio diplosion vale ruota fuoco ruota fuoco da snizel come minimo manda ferragator noi si cambia e si manda ampharos e si fa scarica ciao ferragator ciao ferragator e mashup sale al 21 manda un fantastico magnimite e non si rimanda tiplosion siccome ci potrebbe già statico mi sembra potrebbe avere statico comunque si fa la basbuffo che non è di tipo sembra che non sia di tipo fisico ma di tipo speciale ok e si batte perfetto e continuiamo con la nostra guida e battere gli allenatori del team rocket mi scuso ancora tantissimo per la lentezza del video sicuramente i prossimi saranno molto più veloci per bacco proprio mettiamo il prossimo allora che io lì la combinazione la facevo a casa e riuscivo sempre ad andare avanti facevo il primo e il secondo e il terzo e l'attenavo tutte e tre e andavo molto tranquillamente avanti allora surf perfetto di nuovo surf e mashup sarà il 22 e impara vendetta e noi gli scegliamo preveggenza manda manda a cofing l'ultimo appena sarà il 25 e lo allineamo da solo che perché tanto questi pokemon infatti non sono dei migliori ok e prendiamo la pokeball una cura totale ole mettiamo questo finiamo di battere questi qui e poi si finisce la parte surf tanto tranquillo 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 altro cofing rio scassinatore che lo dente cambiamo pensiamo fosse morto siccome va a tratti si vabbè non ci ha ucciso magmar perfetto oh magmar fa l'evolvere magmortar e matchup sale al 23 ole ok palla fumo non serve alle merite cippa lippa battiamo questo che è stato scassinatore e quel dopo quel membro del team rocket e abbiamo finito un glow light perfetto un glow light e un cofing non ho sbagliato lo fare beh ormai faccio altri gelodenti questa è una mossa utile questa qui servirà per battere la palestra di tipo drago solo gelodenti userò lui con gelodenti basta no userò anche altri pokemon però non so quali perchè servono attacchi di tipo gelodenti schiaccio la guardo ehm surf ormai e mac ok un simpatico mac allora lì si fa ira di drago grazie e surf ciao mac e mashup sale al 24 ore tra un livello si evolve ok pigiamo i tre tasti pigiamo i tre tasti ci siamo intrappolati ok basta pingerli a sequenza ci si vede nella prossima parte continuate a seguirmi a votare a commentare e a scrivervi ciao ciao